Grazie Presidente. Stiamo cercando in tutti i modi di farvi capire che questa proposta di legge così, per come è stata stravolta in Commissione, non va affatto bene. Persino il Comitato per l'Acqua Bene Comune hanno ritirato simbolicamente le loro firme, perché dobbiamo ricordarci che questa proposta di legge si ispira sostanzialmente alle leggi di iniziativa popolare di questi comitati che nel 2007 raccolsero oltre 400 mila firme attraverso una legge di iniziativa popolare. Quello che io vi chiedo è se non vi viene nemmeno lontanamente il dubbio che forse avete sbagliato qualcosa e c'è qualcosa che non va. Se ve lo stiamo dicendo in tutte le lingue che così non va e persino il Comitato promotore di questa legge di iniziativa popolare ha ritirato simbolicamente le firme, dovreste forse farci qualche ragionamento sopra. Grazie.